intanto ciao francesca grazie mille di essere qui partiamo dall'inizio e ti vorrei chiedere prima ancora di parlare del motivo per cui tutti ti conoscono quindi il tennis volevo sapere qualcosa della tua famiglia sei fratelli sorelle papà mamma che lavoro fanno proprio un discursus molto rapido fratello che non ha mai giocato a tennis solo parte finanziaria internazionale si muove non lo vedo mai più grande di più grande di due anni un papà che è stato impiegato all'atm quindi classico milanese però del sud perché veniva da tripalda un posto dove non c'era nulla e poi da giovane è venuto su a milano e una mamma che è stata infermiera ostetrica adesso si è dedicata ancora 30 anni fa si è dedicata alla casa la famiglia e che oggi insomma affronta delle grandi lotte purtroppo il sangue è eccezionale però abbiamo un po di difficoltà da affrontare però nel sangue c'è del dna combattente coraggioso donna incredibile pensavo di essere una persona forte invece vivendola mi rendo conto che sono piccola piccola e che ho imparato tantissimo e continuo a imparare tantissime cose da lei sei nata a milano sì avete sempre vissuto a milano sì parliamo dell'inizio quindi vai a scuola fai una vita normale e a che età e perché scopri il tennis perché ti attrae perché comincia a cimentarti in questo sport facevo un altro sport lo facevo molto bene facevo ginnastica artistica ok poi all'età di 10 anni ho detto papà basta questo sport per favore portami sui campi da tennis portami in un altro mondo ho bisogno di aprire una nuova pagina a 10 anni questo chissà come glielo ho detto e inizio a giocare a tennis e felice del progetto a un certo punto continuo ad andare a scuola regolarmente all'età di all'esconda superiore iniziano a dirmi guarda francesca va bene a scuola però continui ad essere assente quindi non hai tanto margine di continuare una scuola statale finisco quell'anno lì a 17 anni inizio a chiedere a papà guarda facciamo una scuola privata perché voglio investire un pochino più di tempo non solo il pomeriggio ma anche la mattina papà ha detto assolutamente sì se lo vuoi tu francesca noi ti seguiamo ti sosteniamo e questa è stata la grandissima forza della mia famiglia a secondare le mie scelte a guidarmi nelle scelte ma essere sempre molto fedeli a ciò che desideravo profondamente io e siccome loro avevano capito che era un mio sogno allora hanno preso tutte le forze che avevano tutti i soldi che avevano a disposizione e sono partita a 17 anni 16 17 ti farò delle domande banali ma vorrei che chiunque ascoltasse potesse capire un po' qual è la strada per percorrere un po' le tue orme magari non i tuoi risultati ma almeno l'intenzione di provarci cominciare il tennis vuol dire iscriversi in un circolo qualsiasi? sì io sono scesa proprio da casa a 200 metri e c'era guarda che è incredibile c'era un circolo che oggi non c'è più solo in quel tempo lì è esistito e poi è scomparso ti ha aspettato poi ha chiuso i bastenti e si chiama si chiamava? l'attuale oggi accademia dell'inter aveva fatto due campetti da tennis dentro oggi non ci sono più poi da lì ho conosciuto una maestra che è stata numero uno d'Italia al tempo Daniela Porzio che mi ha detto guarda che questo non è più sufficiente per te vedo che tu hai del potenziale vieni ti porto nel circolo dove sono cresciuta io e allora sono andata al tennis club Milano Alberto Bonacossa quindi tu hai cominciato hai proseguito le lezioni e a quei tempi quante ore di tennis alla settimana? alla settimana io facevo un paio di ore al giorno ah wow quindi già un ritmo molto intenso beh non a dieci anni non undici anni dimmi a che età hai cominciato a giocare due ore al giorno più o meno tredici tredici anni beh considera che per un professionista assolutamente è tardi oggi come oggi tu io sarei stata proprio in ritardo ok e invece io penso il contrario che c'è sempre la possibilità nel momento in cui te la dai e hai voglia di affrontare qualche cosa ma con calma c'è tantissima fretta adesso appena vedono delle qualità in un bambino vogliono subito portarlo al successo al progetto che ci sarà business, ci saranno soldi e quindi il genitore inizia a volare in un mondo che non c'è perché la realtà è molto più cruda è molto più difficile è molto più umana di quello che ti offrono la gente si avvicina e ti offre un mondo che c'è dopo viene dopo nel caso si progetta qualche cosa per vivere il successo ma ci vuole tempo e quindi oggi c'è tanta fretta adesso non vorrei essere banale nel ricitare Open Diagassi che era quasi costretto poi dalla sua costrizione è diventato il numero uno al mondo però sono dei casi un po' isolati però obbligare un bambino a fare una cosa che non vuole vogliere togliere un po' la gioia di vivere la felicità che è la più grande ricchezza dell'essere umano chiaro quello che tu mi hai detto ma tu hai detto sono passato nella parte agonistica lo decidi tu o c'è qualcuno che ti dice sei più brava degli altri e alziamo il livello comincia ad allenarti tutti i giorni in quei passaggi chi decide di fare questo step? secondo me è proprio l'evoluzione delle cose dalle tre volte alla settimana il maestro ti introduce e facciamo vieni una volta in più sì certo maestro vengo voglia infatti il maestro è fondamentale il genitore è la base di tutto dopodiché delle persone di cui ti circondi ti possono fare la differenza se loro piano piano vengono a te e vedono che tu comunichi questa voglia queste possibilità allora piano piano inseriscono due ore in più vuoi giocare? ti faccio giocare con una persona più forte oggi e io wow andiamo facciamo quindi a te piaceva tanto? da impazzire io impazzivo quando andavo al tennis per me era andavo a scuola per poi andare al tennis andavo sabato e domenica in campagna per giocare col papà tuo papà giocava con te? sì io prendevo se uno se uno poi quando lui ha iniziato a perdere non ha più giocato e quindi qual è poi lo step successivo? è la competizione inizi a fare la gara squadra e ti rendi conto che l'adulto fa fatica a battere il ragazzino questa ragazzina che inizia a fare le cose poi sempre l'adulto che è vicino a te ti dice voglio giocare con te il doppio tu immagazzini informazioni e dici perché questo gioca così io gioco in modo diverso aspetta che imparo qualche cosa ecco perché dico le persone ti circondano devi avere anche un po' di fortuna e un po' devi saper selezionare le persone che ti accompagnano in questo viaggio poi se hai la fortuna anche di avere dei genitori che ti dicono ehi questo schivalo questo dagli una testata questo vai e stai tranquilla ecco quindi ci vuole anche una fortuna così chi dei due ti portava sempre al campo ti guardava ti sosteneva ti accompagnava e di più papà però sempre dopo l'ora nel lavoro nel lavoro sì e mamma ricordo invece che è successo più di una volta siccome lei lavorava la notte che si metteva questi begli occhialoni mi portava si addormentava ciao poi si svegliava applaudiva nel momento non corretto era un po' così non era in sync con l'azione no chi è stato il tuo mentore nel tennis cioè chi ti ha fatto veramente innamorare ti ha dato quei consigli preziosi che ti sei portata poi dietro per sempre ci sono un paio di persone che mi hanno fatto la differenza considerando che la base è sempre stata una passione incredibile e la voglia di imparare quindi ho sempre ascoltato tanto dopodiché a 17 anni quando sono uscita di casa ho incontrato il dottor Luigi Formica che è diventato il mio grandissimo migliore amico che è stato il mio mentore più grande ti ricordi il consiglio migliore che ti ha dato? diceva spesso sii te stessa ma continua a ricercare qualche cosa quel qualcosa ti arriva sogna grande e ti arriverà un passo alla volta e ce la farai aveva sempre questa predisposizione nell'avere la fiducia in te in te stessa e nel prendere un pezzettino da una persona da un'altra dall'avvenimento dal fatto che succedeva dal pianto dal dolore dalla gioia sempre un pezzettino alla volta per costruire il castello il sogno che volevo io e quindi tutto il periodo di cui mi stai parlando era sempre solo in Italia non hai mai sentito la voglia di poi andare all'estero di apprendere qualcosa di ancora più aperto trasversale di più grande a 13 anni mi hanno selezionato come una giocatrice una bimba che poteva andare a giocare questi due tornei in America che sono conosciutissimi perché gioca a tennis l'orange ball e l'air e lì per la prima volta io sono andata in America una figata pazzesca pazzesca per me in quel momento incredibile salgo su questo aereo arrivo dall'altra parte del mondo e mi si apre un nuovo mondo mi rendo conto delle strutture immense delle persone che parlavano in un'altra lingua figurati inglese io ho 13 anni anche adesso ancora non sono incredibile a parlare inglese nonostante abbia ma sai noi italiani che gesticoliamo eccetera eccetera e ho giocato ho giocato anche abbastanza bene non ero una delle prime però ho osservato tantissimo e ho respirato nuovi concetti una nuova cultura torno a casa entro ci mettiamo a cena e mi ricordo benissimo e se lo ricorda anche papà e gli dissi papà il tennis non è in Italia per favore mandami in America portami via da qua giustamente la sua risposta è distinto ce l'aveva sempre lì sulla bocca e voleva dirmi sì figlia mia ti porto subito andiamo però la risposta fu giustamente non posso permettermi di mandarti in America c'è anche tuo fratello abbiamo una casetta lottiamo tutti i giorni quindi porta pazienza ci andrai tu avrai tu le capacità di andare a viverti questa cosa sicuramente noi ti appoggiamo sempre ma non possiamo adesso ma materialmente non possiamo farlo proprio adesso e quindi quando succede il grande salto per arrivare alla storia magica che tutti conosciamo non c'è stato quel momentino quando ero piccolo c'è stata un'evoluzione una crescita che mi ha permesso un giorno di essere su questa onda che sono riuscita sia a percepire che a cercare e poi prenderla quando entri in questa onda cosa vuol dire entrare in classifica vincere un torneo come si entra essere una professionista essere in WTH come funziona vincere la parola chiave devi vincere dei tornei mediamente importanti nazionali in Italia? no 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 poi a un certo punto il nazionale casca in automatico infatti i bambini oggi hai vinto il torneo nazionale serve a niente serve solo per a niente no però per macinare e fare esperienza dopodiché parti sono andata in Brasile in Sud America ho fatto quattro tornei che età? avevo 17 anni e parto faccio questi quattro tornei e faccio tre finali partendo dalle qualificazioni un culo della madonna mi sono fatta e in quel momento ho fatto il click a livello numerico perché si vede che ce l'avevo già la qualità e da 700 600 del mondo tic parti e inizi a entrare a 250 che è la classifica che ti permette di giocare i tornei più grandi ah perché se non sei tra i primi 250 non puoi proprio neanche accedere alle qualificazioni in un torneo grande esatto ok e lì dentro ho iniziato a giocare le qualificazioni di tornei più grandi e subito le ho passate dopo due o tre subito sono entrata nel tabellone e questo mi ha dato l'opportunità di andare il grande traguardo in quella fase è riuscire a partecipare a uno dei tornei del grande slam o c'è qualcosa di meno mainstream ma altrettanto importante cioè visto che il tuo mentore ti ha insegnato a goderti ogni momento ma prefissarti sempre un nuovo obiettivo cioè quando tu vai in Brasile quando va come mi hai raccontato poi qual è nella tua testa il traguardo dopo cioè tu nella tua testa però il tuo traguardo era arrivare a vincere un grande torneo sì sì poi sono andata è sempre stato così infatti la seconda persona che volevo menzionare prima è Giovanni il mio allenatore mentale infatti io ho guardato dei video tuoi hai rilasciato pochissime interviste in generale però parlavi spesso di un allenatore mentale ed ero curiosissimo di sapere che cosa fosse fantastico lui Giovanni raccontami sì e l'ho conosciuto quando avevo 18 anni il primo incontro più o meno è stato Giovanni sai io non parlavo io fino a 25 anni non è che parlavo tanto adesso sto recuperando tutto caratterialmente ero chiusa mi stavano tutti sulle palle perché non mi capivano sai quando fai i viaggi da giovani sei introverso cerchi di esprimerti ma l'altro non dici ma come faccio a farmi capire così andava e litigavo con tutti alla fine perché eri timida no no incazzosa posso dire incazzosa sì ma c'è un motivo cioè hai analizzato questa cosa ma un po' perché nella mia famiglia siamo tutti strettamente guardiamo tutti la stessa cosa nella stessa direzione ok a un certo punto sono andata quindi il mondo ha iniziato a girarmi e poi mi chiedevano il perché tutti ok sai entrando a fare le interviste perché cosa te ne frega a te di quello che ho fatto io è mio quello che è mio è mio quello che tu è tuo io lo rispetto fatti gli affari tuoi ecco e poi il giornalista non è per niente facile perché loro vogliono sapere quello che loro vogliono ascoltare figurati e quindi crash parlando di Giovanni il mental coach la prima volta che ci siamo visti mi ha detto guarda ti faccio due test per capire chi sei eccetera bene e poi a un certo punto mi fa senti ma perché sei venuta qua io l'ho guardato e ho detto tu sei un grande psicologo l'ho preso anche un po' in giro però io ho dei sogni ho un sogno grandissimo quello di vincere Roland Garros e di entrare tra le prime dieci del mondo nel mio sport questo mi fa bene ascoltate niente un po' di meno che questo chissà magari ha detto questo è scema oppure ha detto no no guarda che tu puoi farci e mi ha dato invece le armi mentali e del cuore perché piano piano sai che è tutto collegato e mi ha detto bene voglio fare questo lavoro con te sono contento andiamo e abbiamo e ancora tutt'oggi ti ha seguito per tutta la tua carriera tutta la mia carriera lì fai questa dichiarazione ce l'hai come obiettivo nella testa e poi quindi qual è stato il primo grande slam a cui hai partecipato? i Roland Garros le qualificazioni il Roland Garros è sempre stato il tuo sogno perché la terra battuta era la tua specialità perché era la superficie dove rendevi di più o c'è un altro motivo? ma forse perché in Italia si cresce tanto sulla terra prima terra e poi campi veloci era naturale vedevo quello mi piaceva quello poi considera che 30 anni fa si guardava la televisione ma non c'era tennis quindi andavo a leggere le riviste sfogliavo vedevo è sempre stato Roland Garros non so perché quindi il primo torneo importante è proprio Roland Garros e ti ricordi l'anno? o 99 o 2000 quindi hai 20 anni 19-20 anni sì e come va? perdo all'ultimo turno delle qualificazioni incazzata nera 7-5 al terzo odiavo qualsiasi cosa ho detto no io volevo entrare in questo torneo il primo torneo importante che vinci dove il tuo nome comincia a essere risonante dove l'Italia comincia a conoscerti ma secondo me vincendo Roland Garros è cambiato tantissimo e l'Italia ha iniziato a considerare anche questo sport e ha iniziato a considerare Francesca Schiamone come atleta quindi parliamo del 2010 sì io avevo 30 anni raccontami Roland Garros quindi Roland Garros fondamentalmente nel 2010 lo vinci sei la prima italiana a vincere Roland Garros ma raccontami la concentrazione per arrivare lì c'è stato un momento del torneo della finale in cui hai pensato che non ce l'avresti fatta o non ti sei mai posto a questo quesito non sei mai entrato in quello stato d'animo lì fammi capire la tua forza mentale per arrivare fino all'ultimo punto mai io non ho mai pensato di non potercela fare altrimenti che atleta sei cosa cosa ci fai lì soprattutto perché quando arrivi ad un certo punto non sono io che sono arrivata in finale ecco qualcuno me l'ha regalato sono tutti step che affronti e che superi significa che sei hai la possibilità e sei in grado di farlo dopodiché il momento fa la differenza come ti prepari alla sua importanza ma lì al momento ci vuole tanto tanto coraggio perché è da affrontare le emozioni le paure le difficoltà l'eccitazione che ti porta a fare anche delle cagate spesso sia nella vita che sul campo da tennis i tempi come faccio a gestire un punto con l'altro l'applauso lo stadio ecco tutto questo è stato organizzato e programmato prima perché oggi ho giocato la semifinale ho giocato il quarto di finale ho giocato gli anni passati altre cose quindi tutto arriva nel momento in cui tu sei pronto per affrontarlo e poi una volta che inizia la partita pronti via fischio in quel momento tocca a te ma non c'è cosa più bella che essere protagonisti della propria vita e del proprio momento quando vinci Roland Garros è 17esima al mondo com'è stato il tuo tennis la tua vita il tuo rapporto con i fan con la stampa dalla vittoria in poi è stato difficilissimo perché tutto ciò che ti ho detto prima dell'ordine dell'organizzazione delle persone è fondamentale in quel momento devi essere protetto guidato accompagnato anche mano nella mano perché è un nuovo mondo diventa lo stesso però con un lavoro extra il grandissimo campione è la persona che nel momento in cui ha successo ha già organizzato tutto prima io in questo sono stata sono sincera mi è arrivato un po' troppo il ciclone addosso e quindi delle difficoltà nell'affrontare la pressione la stampa e il fans ecco perché spesso dico ai campioni che li ammiro molto perché non è solo vincere e andare all'apice una volta ma rimanere centrati per continuare questo percorso e scendere la montagna salire l'altra montagna scusa apro una parentesi ricitando il libro di il libro open ma si dice che lo sport il tennis è lo sport che ti fa sentire più solo in assoluto no? qual è stato il momento in cui ti sei sentita nella tua carriera più sola in assoluto? quando dopo una settimana ho perso il torneo di Wimbledon al primo turno e lì sono cascate tante aspettative e lì c'è stato che cosa è successo ma veramente successo quindi io lì me ne sono andata la solitudine per noi è parte tutti i giorni la vivo anche oggi e io mi sento assolutamente sola è una cosa incredibile però è la parte più forse più difficile è uno sport che ti mette sempre in una stanza da solo in un posto da solo a fare delle scelte da solo e di amicizie non ne puoi coltivare tantissimo perché sin dall'inizio tu inizi a partire vai 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 e non è che vedi qualcuno torni a Milano ho visto vedi due ore un amico e devi ripartire quindi la solitudine è vero Andrea Agassi diceva una cosa verissima e tutt'oggi la sento e ci piango sopra nello stesso tempo puoi imparare e puoi prendere forza a volte lasci la spugna a volte prendi la spugna e dici aspetta un attimo vi faccio un culo così la solitudine nella parte dello sport l'ho sentita lì e l'ho sentita nell'ultima parte della mia carriera quando il team si è rotto e veramente rimani un ago nel pagliaio solo per contestualizzare Wimbledon è anno più o meno sempre 2010 un mese dopo tutto si conclude a New York tu indici una conferenza stampa durante gli US Open e dichiari che il tuo cuore che la tua testa che il tuo equilibrio ti dice apposto così sì come ti sei sentita quando hai fatto questa dichiarazione dopo prima di tutto volevo piangere perché un insieme di emozioni mi era arrivata addosso fortissima sia nell'applauso quando ho finito sia nel fatto che incontravo la gente mi diceva ehi cosa ci fai qua cosa è successo e dovevi ripetere quindi ti tornava questo dolore perché in fondo è una gioia ma è anche un dolore invece quando sono arrivata a casa e mi sono sdraiata mi sono resa conto che era la scelta giusta che avevo fatto quello che mi diceva più il cuore che la mente perché la mente sai è sempre disordinabile raggiungere qualcos'altro invece il cuore era già in pace mi diceva va bene così inizia a costruirti una nuova vita che va bene così e ho avuto molto la forza nei mesi prima di mettermi in contatto con il cuore per poi farlo arrivare al cervello e metterlo in azione il tuo progetto più grande quando decidi di smettere è far fiorire delle nuove te nel senso di fare l'allenatrice giusto? sì lì è un casino sono ancora in cerca di qualcosa lo stavo proprio dicendo prima sono sincera sono stata molto fortunata perché ogni mattina della mia vita ogni sera quando andavo a dormire io sapevo cosa volevo e in che direzione andare perché avevo un sogno oggi mi alzo e non ho un sogno grandissimo nel mio cuore quindi è tutto molto più complicato capisco perché la gente inizia a bere a fumare a fare cose che ti creano una dipendenza per non pensare ad alcune ad altre cose perché sei in una grande bolla di confusione sì è una specie di confusione forse non c'è niente e quindi come fai a dare il disegno a qualcosa o il colore io adesso mi scuso se interromperò il tuo bellissimo sorriso che mi hai regalato sin dal primo minuto e sono molto felice di questo perché devo parlare di qualcosa che ha interrotto i tuoi piani e che hai vissuto in silenzio come molte cose che hai fatto e ne hai parlato solo dopo solo quando poi avevi vinto un'altra volta e qua parliamo di un anno fa quindi esattamente un anno dopo il ritiro e parliamo del 2019 dove tu annunci di aver vinto la partita più grande ma la sfida più difficile della tua vita ti va di raccontarmelo? un pochino? beh intanto il tuo libro si intitola La mia rinascita quindi è esattamente ciò che succederà dopo però volevo sapere che cosa è accaduto sempre per poter dare magari perché ci sono dei sintomi dei segnali e magari chi ci ascolta può farne tesoro di quello che tu racconterai sia nel coraggio che nel riconoscimento da che cosa posso iniziare? dal fatto che facevo fatica a giocare a tennis molta più fatica pensavo fosse l'età e invece c'era qualcos'altro però sai ti leghi hai 40 anni 39 cosa sta succedendo? il fatto che ero dimagrita molto mi dicevano e non avevo questa percezione non te ne accorgemi sì però nel complesso stavo bene dicevo sì c'è questa stanchezza addosso estrema poi un giorno niente ho visto questo linfonodo qui sul collo e mamma e papà mi hanno motivata per andare al dottore ci sono stati un po' di ritardi eccetera alla fine abbiamo scoperto questa malattia come hai vissuto questa quotidianità con che testa con che forza puoi dare anche un consiglio a chi ti ascolta su come affrontarla è difficilissimo quando te lo dicono ti casca il mondo ti casca tutto e dici aspetta aspetta qua non è una competizione sei in mano di qualcuno di qualcosa che non sai che cosa può succedere domani quindi tutto incerto diventa tutto di un colore scuro se vogliamo dare un colore e pensi all'inizio di aver perso tutto poi facciamo così se mi permetti ti racconto una mia storia personale mi sveglio una mattina e sento qualcosa che non va quindi vado a fare un'ecografia mi guarda e mi dice un tumore si chiama un seminoma ai testicoli dobbiamo asportarlo dobbiamo fare questo e questo e quindi lì ti crolla veramente il mondo addosso e io in quel momento sono entrato in un mood positivo non mi sono più chiesto null'altro se non affrontalo fallo e basta sono rimasto molto concentrato non ho mai ipotizzato come quando tu hai vinto con Ogaos di non farcela neanche per un minuto non ho mai perso la forza il sorriso la cattiveria sana secondo me la testa è veramente un ingrediente troppo importante e quindi è per questo che mi sono permesso di entrare in profondità perché mi piacerebbe riceverlo io da te più che un consiglio poter magari rubare qualcosa che mi dà forza ma farlo anche verso gli altri che magari non hanno la cazzimma che hai tu scusa il gergo secondo me ha dato tantissimo aiuto in questo momento a chi ci ascolta e concordo pienamente tra le altre cose ieri sono andata a fare un esame e mi hanno detto che è tutto negativo quindi figurati lo champagne che abbiamo staffato hai vinto un altro set un'altra piccola battaglia sì una cosina la aggiungo circondatevi di persone che vi amano piuttosto pochissime una non importa ma fatelo perché loro hanno sempre una parola o un tempo per voi primo secondo siamo più belli e più forti di quello che pensiamo sempre ogni volta quando pensi di non potercela fare abbiamo sempre quei cinque minuti o quella palla in più da giocare o quella possibilità in più che nemmeno ci pensiamo con la mente perché ci sono forse molto più grandi di noi terzo e ultimo poi chiudo il nostro cervello il nostro cuore ha bisogno di fare o trovare qualche cosa che ci dia alcun alcun tipo di motivazione quindi trovate qualcosa che vi stimola che vi motiva alzarvi tutti i giorni e a lottare per qualche cosa non solo per stare bene e la salute ma anche qualcosa di diverso al di fuori di casa nostra affronti quel periodo sette mesi dopo averlo affrontato ne parli ne parli come una grande vittoria e quindi qual è il piano successivo? il piano successivo era godermi quando mi hanno detto hai affrontato questa battaglia e l'hai vinta e quindi godermi veramente ogni respiro ogni cosa che mangiavo perché tornavo perché tornava il sapore una camminata e il fatto di poter piano piano ricominciare a stare con la gente perché si evita i raffreddori sai ci sono un po' di bisogna mettere tanta disciplina quando si affrontano queste cose dopodiché passano alcuni mesi mi rendo conto che la mia vita va avanti e ricomincia un pochino il ritmo solito di tutti noi cosa hai da fare oggi domani mi raccomando stai attenta fai questo non puoi vivere del passato che cosa ci sarà nel futuro quindi inizia la velocità dell'essere umano sono con la mia compagna e le dico senti ma facciamo qualche cosa che tutto questo progetto però era iniziato quando io ero sul lettino e lei per venirmi incontro mi diceva dai progettiamo sai che il mio cervello deve andare a 200 all'ora e abbiamo iniziato a vedere se trovavamo un localino piuttosto che un altro e abbiamo fatto il giro di Milano alla fine abbiamo trovato queste quattro mura piccoline che abbiamo voluto e infatti oggi ce lo stiamo godendo far diventare un piccolo bistro e questo questo progetto mi ha dato tantissime energie e motivazione tu sei fisicamente lì sì spesso io ho apprezzato sempre molto una cosa che tu hai tenuto sempre molto nascosta la tua vita privata e penso io personalmente uso i social per guardare gli altri al mio mestiere ma non mostro nulla della mia vita perché è mia e quindi c'è chi lo fa e lo fa con piacere è una libera scelta ed è rispettabile quindi non c'è nulla di giusto o sbagliato però tu hai parlato di amore e io voglio sapere se tu senza entrare nello specifico non mi interessa perché è la tua vita voglio sapere se tu sei amata io amo e sono amata ho una grandissima fortuna e questo mi fa emozionare ogni volta che lo dico ogni volta che lo sento wow allora sei veramente ricca ricca sono ricchissima straricca senti Francesca facciamo una cosa di rito che facciamo sempre in chiusura di tutte queste puntate la lettera adesso ti do tutto il necessario in modo tale che tu possa scrivere uno o più obiettivi che tu vorresti vedere realizzati e ti auguro una vita splendida grazie Francesca grazie a te e grazie a tutti voi grazie a tutti